ci vuole ancora un po' perché abbiamo perso il batterista l'intro non c'è, lo canto io a cappella non vedo niente con queste fantastiche luci possiamo passarle un pelino? grazie allora dopo trent'anni di urli finalmente arriviamo in piazza Sierenzano in piazza della chiesa cosa che ho sempre voluto fare anche perché mia mamma ci teneva che cantavo in chiesa quindi è la cosa più vicina che ho potuto fare quindi partiamo già ringraziando Iorione Giordaval un applauso un po' più forte che ci hanno chiamato per animare questa serata con le nostre lucubrazioni animate tu è la casa della birra perché sei cieco così alzi la chitarra poi aiutiamo anche gli anziani ad andare avanti con i loro hobby ecco loro là grazie a tutti hanno ritrovato